OST 2023 continua, ci troviamo allo stand di Bianchi Industri, l'azienda tutta italiana proprietaria del marchio Brasilia che quest'anno espone tutta la propria gamma e qualche novità. Ne parliamo con Massimo Trapletti, l'amministratore delegato dell'azienda. Ciao Massimo e bentornato. Ciao, buongiorno a tutti e ben arrivati voi ancora una volta da noi per aiutarci a spiegare ai nostri clienti che cosa abbiamo di novità e che cosa stiamo presentando. Facciamo però prima un piccolo riepilogo su quello che è il brand Brasilia e quello che propone oggi a OST 2023. Brasilia è il nostro marchio di riferimento per tutto il prodotto professionale, presentiamo tutta la gamma tradizionale da bar, due bracci, tre bracci con monocaldaio o doppio caldaia con il famoso bullone rosso che rappresenta una storia di Brasilia nel mondo delle macchine da bar e presentiamo oggi anche una linea di profumer che è praticamente la macchina che vedete alle nostre spalle che è la Minimity che abbiamo già presentato come prototipazione in Venditalia ma che oggi portiamo in grande numero perché abbiamo cominciato la produzione e quindi la stiamo proponendo a tutti i nostri clienti. Le macchine che vedete alle nostre spalle rappresentano una novità perché sono adattissime per l'uso domestico o le piccolissime locazioni, parliamo di uffici di piccole dimensioni, di medie dimensioni ma anche di location di altro tipo dove i consumi non sono di grande quantità. Esattamente, è una macchina comunque professionale, non è una macchina con bassi costi perché noi abbiamo inserito tutta la tecnologia di alta gamma anche in questa tipologia di macchina anche perché riteniamo che la qualità del caffè erogato debba essere sempre considerata anche a livello familiare e chi vuole comprare una macchina di questo genere vuol dire che si vuole trasformare per un minuto in un barista vero e quindi oltre ad avere la macchina professionale avrà anche il suo macinino di piccole dimensioni ma che si possa divertire a fare il caffè anche per gli amici o per la famiglia. Ecco, facciamo in modo che tutti possano diventare baristi. Massimo, quali sono le novità che presentate quest'anno a Osto? Ad Osto, a parte la Mini Mighty che abbiamo qui alle spalle, abbiamo presentato due famiglie di prodotto nella superautomatica che sono la Desia, nella versione due contenitori solubili con il caffè in grani o tre contenitori solubili con il caffè in grani che ha un design molto attrattivo, molto bello e che stiamo praticamente spostandoci dall'office coffee service al prodotto da prima colazione con la Evia che è un'altra macchina con il fresh milk che abbiamo presentato qui a Osto e che rappresenta un punto di partenza per noi per entrare in un segmento che è quello che tra parentesi si sta sviluppando in modo importante nel mondo sempre trainato dal prodotto caffè espresso. Però non disdegnate ciò che è distribuzione automatica, il vending che è la parte principale in termini di produzione e fatturato dell'azienda Assolutamente, noi abbiamo, se puoi vedere, che noi abbiamo creato due spazi ben distinti tra Brasilia e Bianchi Vending nella parte Bianchi Vending abbiamo messo i distributori automatici di nuova generazione che sono l'Intuiti, l'Agili che poi sono affiancati da tutte le macchie dello snack che sono le Flessi e abbiamo portato proprio la Evia che è la nuova macchina per le prime colazioni l'Edesia e da questa parte invece abbiamo portato tutte le macchine professionali e le macchine super automatiche del mondo Brasilia con marchio Brasilia dove lavoriamo molto sul discorso del gruppo caffè espresso camera variabile per permettere ai clienti di fare un mono o doppio caffè e poi la Minimite che è il completamento della gamma Brasilia perché il nostro obiettivo è dare al cliente la possibilità quando entra nel nostro stand di trovare qualsiasi prodotto legato all'espresso e allo snack in modo che possa trovare qualsiasi tipo di prodotto poi dopo di che possiamo essere competitivi o no, può piacere o meno però Bianchi oggi parte dalla piccola locazione che può essere anche la famiglia con la Minimite e arriva fino alla grande comunità con la Diva perché ricordiamoci che abbiamo portato anche la Diva che è il nostro corner di alta gamma che ti permette di personalizzare il prodotto come se fosse uno Starbucks Insomma, riepilogando la tradizione del brand Brasilia e l'innovazione portata dal gruppo Bianchi Industri anche attraverso tutti gli studi, la progettazione, la sezione sviluppo della distribuzione automatica talvolta applicata anche al settore dell'oreca Massimo Trapletti, grazie Grazie a voi e grazie di essere venuti ci vediamo alla prossima puntata, sicuramente Venditalia dove presenteremo tante novità ulteriori su cui stiamo lavorando Grazie 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 a tutti